Grazie dell'invito, cerco di essere più breve perché vedo che l'ora è già andata molto avanti e per cui cerco di dire alcune cose. Si prenda il tempo necessario. E poi dopo un altro webinar per cui anche a questo scopo cerco di farlo. Innanzitutto condivido tutte le cose che Chiara ha detto sin qui, sono molto d'accordo. C'è però una necessità nuova, noi stiamo vivendo non un periodo qualsiasi della storia dell'umanità, stiamo vivendo un periodo in cui le tre grandi transizioni accelerano molto e spingono molto forte i cambiamenti. Le tre transizioni sono quella climatica ambientale e ecologica, sappiamo ci sarà un ministero in Italia proprio ad hoc dedicato a questo, la grande trasformazione digitale e la trasformazione demografica. Noi dobbiamo sapere che siamo in un momento non qualsiasi, siamo in una fase in cui anche per alcuni aspetti di cui parlava Chiara Giaccardi, siamo un paese che investe sempre meno. La parola investimento per la vita fa un po' a botte diciamo, però noi abbiamo il tasso di natalità del 1861, abbiamo più morti che nuovi nati. Significa che c'è una sfiducia sostanziale, c'è un'organizzazione sociale, le città, il lavoro che sono mal organizzate per generare la vita. Da questo punto di vista però tutte e tre le tre grandi trasformazioni hanno un campo da gioco comune che è proprio il lavoro. Se ci pensate l'impatto più importante del digitale è proprio sul lavoro e le produzioni, l'impatto più importante anche della transizione demografica come opportunità, ma anche come elemento di foriero di rischi da governare e lo stesso per quello che riguarda la transizione climatica ambientale. Ovviamente ciò che si consuma, ciò che si produce e ciò che si lavora nelle produzioni dovrà essere qualche cosa di diverso se vogliamo conservare in qualche modo il creato. Da questo punto di vista cerco di aggiungere, per non ripetere cose già dette, di aggiungere un'altra parte di riflessione. Il digitale ha un impatto sul lavoro molto importante, di cambiamento radicale e profondo, tanto che io sostengo che il pensiero, accanto agli spunti filosofici anche citati del Novecento, anche prima di me e prima del mio intervento, siano molto importanti, ma il pensiero lavorista del Novecento con fatica riesce ancora a descrivere, a interpretare il lavoro che sta nascendo adesso. Le vecchie categorie, i vecchi paradigmi di descrizione delle produzioni e del lavoro sono sempre più inefficaci e spesso quando sono confortevoli per chi le utilizza rischiano di essere dannose, cioè rischiano di non farci capire qual è veramente il lavoro che sta nascendo. Il World Economic Forum ha un dato che sta cambiando tra l'altro molto velocemente e sta crescendo, e cioè dice il 65% dei bambini che oggi frequentano le scuole elementari faranno un lavoro di cui oggi non conosciamo neanche il nome. Questo significa una cosa molto importante, che il cambiamento che c'è sempre stato è un cambiamento molto più profondo e molto più rapido. L'energia elettrica si diffuse nella parte più ricca del pianeta e impiegò 40 anni. Oggi una nuova tecnologia abilitante si diffonde anche in zone del Centrafrica, penso all'intelligenza artificiale, penso alla telecomunicazione dalle 4G in su, in poche settimane. Ecco, questa che si chiama tasso di sostituzione tecnologica, ovviamente porta a una riflessione molto interessante, che con la sua tradizionale forza Papa Francesco ha indicato, detto attenzione che il progresso non deve arrivare a portare, ad avere con sé, a recare delle connotazioni negative. E se il progresso lascia degli scarti, appunto degli scarti, in questo caso di persone che non riescono a essere agganciate a questa innovazione, anche il progresso stesso verrà visto con appunto connotazioni negative. Questo è un problema molto molto serio. Da questo punto di vista l'umanità ha due fattori fondamentali su cui giocare la partita. Innanzitutto io sono contrario con chi dice, ma la tecnologia arriva e disumanizza il lavoro e distrugge e fa finire il lavoro. Non è vero, la tecnologia di per sé non è oggettiva. La finalità di qualsiasi algoritmo, di qualsiasi device tecnologico, la assegna un essere umano, un'azienda, una persona, un progettista, e per cui i valori di qualsiasi tecnologia sono gli uomini a definirli. E allora da questo punto di vista, soprattutto e anche per i credenti, c'è una sfida in più. C'è una sfida per cui non mettersi in un aventino in cui aspettare e giudicare lo sfruttamento che arriverà, ma far parte, e per questo è stato anch'io penso straordinario e fondamentale, riiniziare a declinare un nuovo pensiero del lavoro post-novecentesco, a partire dalle settimane sociali culminate a Cagliari. Parlare di lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, è guardare in qualche modo a una dimensione realizzativa del lavoro. E paradossalmente, se ci pensiamo, la tecnologia può essere un grande alleato. La tecnologia può essere, noi una volta ragionavamo come obiettivi sindacali, quello di riduzione della fatica. Non parlo della fatica in generale, come Chiara Giaccardi giustamente ricordava, parlo della fatica fisica. Oggi i robot cooperativi cancellano le mansioni ripetitive, cancellano le mansioni faticose, parlo delle fabbriche avanzate ovviamente, e tanto è vero che queste grandi aziende iniziano a mettere nelle cose da eliminare la fatica. Cioè un obiettivo aziendale è diventata appunto la fabbrica a zero fatica, perché si considera la fatica qualcosa di inutile con la tecnologia oggi disponibile. E detto questo, però, il lavoro che ne può scaturire può essere un lavoro alienante lo stesso, a meno che chi progetta questi, io li chiamo gli workitect, i nuovi architetti del lavoro, non valorizzino la parte, diciamo, l'aspetto più incontendibile degli esseri umani con le macchine e gli algoritmi, che è proprio l'umanità. E questo pone tutti quanti noi di fronte a una grande riflessione, perché è qualche cosa su cui non abbiamo più ragionato, abbiamo accettato anche per limiti di pensiero e limiti tecnologici, abbiamo accettato che gli esseri umani facessero lavori in cui l'umanità entra in gioco molto poco. Se noi andiamo a vedere oggi qual è il lavoro che sparisce, il lavoro che sparisce è il lavoro ripetitivo. In particolare il lavoro ripetitivo impiegatizio è in seconda battuta il lavoro ripetitivo operario. In tutti e due i lavori il lavoro che si espande appunto è quello in cui la messa in gioco dell'umanità protegge di più il lavoro e questo perché aumenta la richiesta, si chiama tecnicamente di ingaggio cognitivo, cioè di contributo della persona, non solo delle sue braccia, delle sue gambe, dei suoi polmoni, eccetera, ma il contributo della persona nelle sue capacità progettuali, nella risoluzione dei problemi, nel prevedere quelli che possono essere difficoltà, nel costruire il pensiero strategico, laterale, critico. Questi aspetti sono fondamentali nelle produzioni avanzate. Sono anche questo su World Economic Forum le mette tra le soft skills più importanti, quelle più utili, proprio da mettere insieme alle tecnologie abilitanti delle fabbriche cosiddette intelligenti. Allora da questo punto di vista il digitale fa una cosa in più sul lavoro e che a proposito di dignità, a proposito di tutela, a proposito di capacità di realizzare, è molto bello davanti all'Ilva di Cornigliano, il Papa ha detto noi non siamo per il reddito per tutti, noi siamo per il lavoro per tutti e perché è una battaglia e il lavoro reca con sé ed è tuttora uno strumento di acquisizione di cittadinanza e dignità. E appunto nel lavoro degno lui aggiunge l'essere umano fiorisce. Ecco, ma l'essere umano fiorisce proprio in questo lavoro a umanità aumentata, come dico sempre io, e molto meno in un lavoro ripetitivo. Stavo dicendo il digitale, lo abbiamo visto nello smart working e mi avvio alla conclusione. Il digitale cosa fa? Scongela due variabili fisse, rigide del lavoro, che sono lo spazio di lavoro, cioè il luogo, vedete si può, ci sono sempre più lavori che si possono fare più o meno ovunque, e scongela anche la risorsa tempo, gli orari. Pensate, otto ore al giorno, 40 alla settimana, 1760 all'anno, che sono state una conquista perché una volta non c'era limite orario giornaliero, non c'era limite orario settimanale, non c'era limite d'orario e per cui era tutto orario di lavoro che il datore di lavoro assegnava arbitrariamente, non esisteva un limite di età per poter iniziare a lavorare, il limite verso il basso, per cui il lavoro minorile era ampiamente diffuso. E invece con lo smart working, ma sempre più con il lavoro, si scongela lo spazio, lo spazio si potrà remotizzare sempre di più quantità di lavoro, non solo impiegatizio. Io ho pubblicato questo articolo di questa miniera nelle NAN, in una regione della Cina, in cui ci sono minatori che usano lo smart working perché attraverso il 5G riescono ad avere scavatori che riescono a estrarre il molibdeno, il molibdeno, scusate, che è una lega che si utilizza per rafforzare le leghe, è un metallo, e utilizzano delle console e dei joystick, ma sono sempre di più i lavori che potranno essere remotizzati. Attenzione perché un lavoro remotizzato di per sé non è un lavoro automaticamente tutelato. Noi lo abbiamo confuso in Italia con il telelavoro, cioè lo stesso lavoro fatto a casa, lo smart working è qualcosa di molto diverso, è un lavoro con nuovi diritti, il diritto alla disconnessione, fasce orarie di reperibilità, avere la possibilità in qualche modo che le persone guadagnino, è sostanzialmente un nuovo legame di reciprocità in cui le persone guadagnano libertà e autonomia nel loro progetto di lavoro, in cambio però lo scambio viene molto meno come parola azzeccata in questo caso, con una maggiore responsabilità rispetto agli obiettivi e una costruzione di un rapporto fiduciario tra chi costruisce il progetto e chi individua gli obiettivi del progetto e chi lo realizza, cioè la lavoratrice e il lavoratore materialmente. Questi sono aspetti fondamentali perché possono arrivare a dare obiettivi che aiutano tutte e tre le transizioni. Pensate alla transizione demografica, raddoppio oltre ottantenni, di natalità, pensate alla transizione climatico-ambientale, noi abbiamo un pendolarismo nel mondo assolutamente inutile, è chiaro che ci sono lavori in cui bisogna essere assolutamente in presenza, ma ci sono sempre più lavori, proprio il presidente incaricato Draghi a Rimini diceva negli Stati Uniti hanno calcolato dopo il primo lockdown che il 20% non tornerà più nel vecchio luogo di lavoro, ecco bisogna fare in modo che questo aspetto diventi una, diciamo, una delle buone battaglie in cui anche proprio come credenti bisogna cimentarsi perché ci sarà da rigenerare gli spazi urbani, spazi che sono sempre meno dedicati alla socialità, alla dimensione sociale, alla crescita delle persone, pensiamo non solo agli anziani, alle ragazze, ai ragazzi, ai bambini, e pensiamo alla rigenerazione degli spazi di lavoro, sarà fondamentale avere degli, non, io li definisco così, le palazzine direzionali sono scatolifici, scrivano centrici, la scatola ufficio cresce mano a mano che si sale nella gerarchia, e invece bisognerà liberare dello spazio per i momenti in cui si rientra in azienda, per stringere i bulloni delle relazioni sociali, del lavoro di gruppo, delle condivisioni di strategie, e per un'ultima cosa ha scritto delle cose molto belle il professor Luigi Bruno su questo, per inserire le tematiche fondamentali della cura della persona, perché bisogna ritornare a considerare un'impresa, un'azienda, un ufficio pubblico come una comunità, e fare in modo che ci siano sia i tempi dell'efficienza, e sintonizzati con i tempi che necessariamente devono essere più lenti, e cioè i tempi della cura, ecco, credo che queste possano essere frontiere molto importanti verso cui lavorare, e su questo noi possiamo fare tantissimo, perché c'è una battaglia allo stesso tempo che tiene insieme la fascia più alta di innovazione, per cui un lavoro che ha grandi possibilità di migliorare la qualità del lavoro stesso, e però un terziario che produce sempre più lavoro povero. Ecco, da questo punto di vista bisogna imparare a costruire nuove tutele per quel lavoro che spesso esce fuori dal monitor delle tutele sindacali, dalle tutele legali, dagli uffici, dagli ispettorati al lavoro, e per questo bisognerà tenere insieme questi due aspetti, perché dobbiamo poter concepire un solo tipo di lavoro che è esattamente quello che Papa Francesco ci ha ricordato appunto in Evangelii Gaudium, ma anche in Laudato Sicum, questa idea nuova appunto di lavoro che sicuramente abbandona delle concezioni del passato che rischiano di portarci troppo spesso fuori strana.